Allora, il 18 aprile, quando c'è stato un regalo per un bambino, il 28 marzo, un applauso Il 28 marzo, aspetta, perché sì, ci sono i soci che il 28 marzo si sono riuniti e hanno deciso un progetto Sto attento a quello che dice Allora, il progetto è stato sviluppato in questi giorni, dal 28 marzo ad oggi e finalmente ci siamo riuniti Mi paremmo di questo, ha dovuto ragione No, 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 non è vero Allora, è stato deciso di creare un'appalange interna all'alto. Lo sapevo dire. Una appalange interna all'alto. E questa appalange ti posso assicurare. È arrivato finito. È arrivato finito. E come ha detto il Presidente oggi con la maglietta, io vi ringrazio della maglietta. E come ha detto il Presidente? No. 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 Grazie a tutti.